Non sanno ancora quando potranno rientrare presso la propria abitazione i residenti di una delle case a ridosso del torrente Solofrana, nei pressi dello stadio San Francesco, a Nocera Inferiore, evacuate a causa dell'esondazione del corso d'acqua. Temono che possa cedere anche un altro argine, poco più avanti rispetto a quello devastato dalla violenza dell'acqua, lunedì scorso. Le piagge annunciate nelle prossime ore creano allarme e preoccupazione. I cittadini chiedono che si intervenga subito e che si metta in sicurezza immediatamente la zona che costeggia il torrente Solofrana e che ha provocato danni allagando abitazioni, cantine, garage e non dando completamente il campo di gioco dello stadio San Francesco. Le immagini testimoniano la precara condizione degli argini del fiume. Si susseguono intanto le reazioni politiche come quella dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Giuseppe Odoroso e Rosa Giordano. Quanto successo fortunatamente senza gravi conseguenze per i cittadini è l'ennesimo campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Stavolta il fatto che l'acqua del torrente dopo la rottura degli argini sia defluita all'interno dello stadio San Francesco ci ha aiutato a limitare i danni, ma non possiamo contare su altri colpi di fortuna. Fermo restando l'appoggio e la vicinanza del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, al di là dei colori politici, alla cittadinanza e all'amministrazione che si trova ad affrontare questa particolare e difficile situazione, ci sentiamo in dovere di sollecitare la maggioranza affinché si avvii urgentemente un dialogo costruttivo con gli enti preposti, in particolare la regione Campania, che continua a mostrare assoluto disinteresse per una zona, quella dell'agro, storicamente colpita da analoghi fenomeni. I consiglieri lanciano accuse al governo regionale affermando che in questi anni non è stato fatto assolutamente nulla, quasi come che l'obiettivo fosse quello di colpire e depaperare l'area dell'agro e di nocere inferiore dai servizi principali presenti, rallentandone volontariamente lo sviluppo. Forse la politica, affermano i consiglieri Odoroso e Giordano, è quella di screditare l'agro e di non attuare seri progetti di rilancio a sostegno dell'intera area metropolitana. Proporremo di convocare a breve la terza commissione pianificazione urbana, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e patrimonio per affrontare la problematica. Solleciteremo lo studio di fattibilità del progetto Nuceria Beyond Development, che oltre a valorizzare il patrimonio artistico-culturale del territorio, apporterebbe miglioramenti in termini di sicurezza, in una zona ad alto rischio idrogeologico, concludono gli esponenti del gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie Grazie Grazie